Oggi, oggi ho due, anche oggi ho due argomenti, il primo è che ho, ah, finalmente è arrivato il materasso. Il materasso, come si dice, ha il materasso ad aria. E' più voluminoso che immaginavo. E' più voluminoso di? E' più voluminoso di quanto. Ah, ok, ora si. Di quanto che immaginavo. No, di quanto immaginavo. Ah, di quanto immaginavo. Ok. E' grosso così, alto, alto così. Non ci vogliono tanti minuti per gonfiarlo. Ok. Ho già imparato la parola. Ah, brava, brava, brava. Sì, ci vuole solo un minuto circa. Poco. Sì, sono contenta per adesso. Sì, saprò se è davvero comodo domattina. Mi farai sapere. Per adesso, per adesso è perfetto. Ok. 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 Il argomento secondo. Sì. Meglio, meglio dire secondo argomento. Ah. Il secondo? Sì. Il secondo argomento è anche della cartolina. Sì. di capodanno. Ok. Controlliamo il numero. Ah, va bene. Se tu hai vinto. Ok. O no. Va bene, va bene. Controlliamo. Dimmi il numero tuo. Ok. 4, 5... Aspetta, aspetta, aspetta. 4, 5, 9, 1, 9, 1, 6, 6, 9. 9. 9. 4, 5, 9, 1, 6, 9. Sì. Niente. Ah, sempre niente. Non vinco mai niente. Sì, sì. Sì, anche nessuno della mia famiglia. Ah, nessuno ha vinto. Ah, nessuno ha vinto. Ah, peccato. Peccato. Pensavo, visto che mi piacciono i criceti, pensavo che avrei vinto questa volta, visto che è l'anno del topo. no? Infatti, infatti. Quest'anno è il tuo anno. Infatti. Ma non ho vinto, so. Forse... Pazienza. In febbraio qualcosa succede. Quando? Febbraio, ho detto. Febbraio, sì. Ah, sì, sì. Va bene. Ok. Oggi. Per oggi? Per oggi è tutto. Ok. Ok. Buonanotte, allora. Buonanotte. Ci farai sapere com'è il materasso materasso ad aria. Sì, sì. Tutto mattino. Va bene. Va bene. Ciao.